Ciao a tutti e benvenuti al showroom Romaco Macofar. Mi chiamo Carlo Cattenati e sono il produttore di Macofar per Romaco Bologna. Qui in fronte di noi abbiamo la Micromax 18, che è una macchina di aseptica per il vaso di acqua. La serie Micromax viene in due modelli, la Micromax 18 e la Micromax 24. Capabile di riuscire a 24.000 viali per l'ora, con 100% di peso di controllo. Voglio mostrare le parti principali della macchina, inizio dalla tavola di inleta. La tavola di accumulazione è imbedita nella macchina e trasferita i viali dal tunnel di depirogenazione all'interno del sistema di trasferimento lineare. I viali sono trasferiti con il sistema di trasferimento lineare all'interno della macchina, la unità di dosi. La unità di dosi 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 di dosi. Estare 많은 i osti dell'internoopathione leggermente dall'interno di A, inizio dell'interno del bandello. Oggiーいante le domande ploterie dal코visorio leggermente alberto presidential이 quelquezza di dosi di dosi. In Semezza il caffese del wiali di trasferimento regomenda all'interno della macchina. Le macchine Micromax 8 possono principalmente ingratiare suoi sistemi lontropoli a tre tre casi che vedo all'interno. Il primo è per controllare i contenuti empori, il secondo è per controllare i risultati della prima stazione dosing e il terzo è per controllare il prodotto final. Micromax non solo offre le nuove tecnologie dell'applicazione, ma anche le funzioni di utilizzo, come il cambiamento di tool. Un'unità di fissura di fissura può essere completamente disassemblata in un modo facile, per l'applicazione dei nodi e dei sondaggi, e anche per il sistema di transporte. Basi sui requisiti del prodotto, Micromax può essere equipato con l'inertizzazione del sistema prima e dopo la fissura. La stoppire è la parte della macchina di Micromax. Viali sono fermati con il rubber stopper, per l'applicazione di un sistema di prendere. Micromax può anche essere equipato con la camera, per controllare la presenza del rubber stopper sulle viali. L'exito della macchina consiste in due convegni, uno per i buoni prodotti e l'altro per la semplificazione e la retezione. Per Romaco standard, Micromax è equipato con il livello di high-hygienico B&R HMI. Tutto il sistema è complesso di 21 CFR Part 11. Tutti i dati di produzione significativi sono stati sicuri in l'audit rail e il rapporto di batch, che possono essere esportati facilmente per la richiesta del cliente. Romaco è sempre vicino ai loro clienti. Per esempio, i clienti possono contattare direttamente Romaco, solo con un clic su un HMI. Per mantenere il livello di stervità di stervità nella macchina, ovviamente, Micromax può essere equipato con gli occhi e il flusso di lamina. Per continuamente monitorare il livello di stervità nella macchina, Micromax può essere equipato con il controllo ambientale. Qui, a Bologna, stiamo sempre a mantenere un Micromax dentro del nostro quarto, per poter testare il prodotto di cliente. Se siete interessati alla performance e alla relazione per il vostro prodotto di aseptic, potete contattare con noi. Siamo felici di impostare una demonstrazione live per voi. Grazie a tutti!